Buongiorno amici dell'Instagram, torno sulle stories per parlare di un fatto. Premetto, non sono io il pubblico ministero, quindi non sta a me giudicare l'innocenza o la colpevolezza, quello lo farà chi dovere. Io voglio soltanto parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale se uno stupro viene denunciato dopo 8 giorni allora non era stupro. Non è così, ci sono persone, soprattutto donne, che si rendono conto del fatto anche molto tempo dopo e trovano il coraggio di denunciare molto tempo dopo, perché siamo abituati a pensare che molte cose siano legittime quando in realtà non lo sono e perché c'è un problema proprio di fondo e di educazione, quindi vi prego di informarvi e di astenervi da dichiarazioni tanto disumane, almeno ai miei follower.